La sicurezza sui luoghi di lavoro non è più un problema per gli imprenditori da quando l'Inail ha stanziato decine di milioni di euro per aiutare le imprese a ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro. Nel 2015 sono previsti 267 milioni di euro in tutta Italia per aiutare le imprese a migliorare i luoghi di lavoro quindi la sicurezza sui luoghi di lavoro. Possono partecipare al bando tutte le imprese che sono iscritte in Camera di Commercio e tutti i settori, quindi dal commercio all'industria agroalimentare e soprattutto l'edilizia, l'agricoltura, la pesca e i trasporti. Un altro importante elemento da considerare è il contributo che viene erogato dall'Inail che è pari al 65% a fondo perduto dei progetti che possono raggiungere un massimo di 200.000 euro.